C'è qualcosa? Ti troverò! Ora sei vivo! Muori! Allearmi! Ti troverò! Impossibile! Sì! 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 Non attraversi il ponte di Coldwind finché il coprifuoco non verrà revocato! Attenzione cittadini! Al momento a nessuno è permesso di attraversare il ponte di Coldwind! Sì! 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 Ahah, 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 ahah! Eh? Datelo alla... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti